in questo punto esatto dove vedrete il cartello fine farneta inizia la crono scalata di farneta chiatri andiamo a vederla è una crono scalata fantastica bellissima bisogna farla molto molto veloce grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti in questo punto esatto finiamo la crono scalata di farneta chiatri attenzione non è una vera e proprio crono scalata è una strada con un bel mange baby quindi non è adatta solo agli scalatori ma è adatta anche ai velocisti grazie a tutti grazie a tutti